Milano, capitale della moda, ma questa settimana la Fashion Week è tutta dedicata all'uomo. Andiamo a scoprire insieme le nuove tendenze, primavera e estate, Spring Summer 2016. E la settimana della moda è quasi giunta al termine. Ragazze, io sarò immediatissima in questo momento perché sono qui con Mariano Di Vaio, chi è che non lo conosce? Il re dei social, il grande blog. Quindi subito volevo chiederti il tuo pensiero riguardo di questa grande Fashion Week. Guarda, è stata una Fashion Week abbastanza tranquilla, ti devo dire la verità. Di solito la Fashion Week uomo è sempre molto più tranquilla di quella donna e anche quest'anno è stato così, ma è stato molto molto bello, ho visto tante cose veramente interessanti. E invece per la tua collezione di scarpe, quali le aspettative, quali i grandi pensieri del futuro? Allora, per ora sono molto soddisfatto, ho fatto fuori un buonissimo lavoro, abbiamo fatto un gran lavoro con la nostra squadra, con l'azienda che ci sostiene, è stata veramente una gran cosa, anche a livello mediatico di comunicazione siamo andati bene. Adesso vedremo con le vendite, incrociamo le dita, ma siamo fiduciosi. Quindi un grande in bocca al lupo, ti ringrazio davvero molto, ciao.